Quante cose siamo in grado di fare contemporaneamente noi esseri umani? Alcuni vanno in crisi facendone soltanto mezza, altri riescono a tenere in piedi in equilibrio milioni di cose. È il caso dell'ospite di oggi che ha ben quattro figli e due attività imprenditoriali nel campo della moda. Lei è Leonora Brunacci. Ciao a tutti, grazie Nick, grazie Giulia.